La storia sarà avvincente ed emozionante come sempre, le anticipazioni non mancano e soprattutto una parte dei fa che si è lasciata suggestionare dalla terza serie, potrà stare tranquilla. Il regista ha promesso che la trama della quarta stagione non avrà nulla a che fare con il noir, ma si tornerà ai sentimenti e alle emozioni, che sono sempre stati alla base delle storie delle tre rose di Eva. Non mancheranno i colpi di scena e il ritorno di Aurora sarà il più clamoroso. Il pubblico ha accolto con enorme gioia il ritorno di Anna Safroncic, diciamo che non si era proprio rassegnato all'avvio di Aurora, ed è per questo che gli sceneggiatori hanno dovuto studiare un modo per far tornare Aurora nella trama di le tre rose di Eva IV. Come succederà? Si era visto il suo funerale ma non il suo corpo senza vita. Tutti la credevano morta ma non era così. Non c'è niente di sovrannaturale o di forzato. Semplicemente, non era morta. Ricompare ed è sempre lei, ha detto l'attrice a tv Sorrisi e Canzoni. Come reagirà Alessandro? Sarà uno shock. Monforte si sarà rifatto una vita, per il bene della piccola Eva, e seppure l'incontro tra Alessandro e Aurora sarà il momento più emozionante di sempre, non sarà facile per Lataviani riavere la sua famiglia. C'entrerà per caso Clarissa? Le anticipazioni sulla storia delle tre rose di Eva IV, che andrà in onda a fine mese, o non rivelano ancora se Alessandro avrà un nuovo amore o meno, ma probabilmente tornare insieme ad Aurora o meno dipenderà anche dai motivi che l'hanno spinta a fingersi morta. A Villalba, intanto, sarà un momento difficile per le famiglie in affari. Monforte, Taviani e Camerana non se la passeranno bene, che sia a causa dell'arrivo della famiglia Astori. Sono loro, infatti, la novità della storia della quarta stagione della fiction. Vorranno comprare le terre di Villalba e Fabio, il figlio maggiore della casa, sarà il nuovo antagonista di Alessandro. Con l'entrata in scena dei nuovi personaggi, e conseguente arrivo di nuovi attori nel cast, si svilupperanno nuove storie e tanti intrighi, che coinvolgeranno anche gli abitanti di Villalba che conosciamo già. Tessa, per esempio, troverà l'amore e scoprirà un mistero legato alla sua famiglia, mentre Marzia sarà più razionale e sempre positiva, ma c'è qualcosa che preoccupa, ora come ora, i fan delle tre rose di Eva. Nella trama della quarta stagione Edoardo morirà. Giravoce, infatti, che Luca Capuano potrebbe lasciare la fiction a fine serie.